Stiamo adesso approfondendo le varie collaborazioni che nel tempo si sono sviluppate intorno alla figura della Tibullo. L'arresto della criminologa Angela Tibullo è solo la punta dell'iceberg. Sono tantissimi infatti i casi in cui la donna in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e intralcio alla giustizia si sarebbe prodigata per le cosche grasso e pesce di Rosarno e i crea di Rizziconi. Gli inquirenti la definiscono costantemente e proficuamente impegnata nel far ottenere ai propri assistiti in debiti vantaggi penitenziari. L'obiettivo era uno, dovevano lasciare a tutti i costi il carcere, ma per farlo, stando all'inchiesta Ares della DDA di Reggio Calabria, la donna si abbaleva di medici, consulenti e persino agenti della penitenziaria. E' proprio su queste altre figure che adesso gli inquirenti puntano la loro attenzione. Il GIP che ne ha ordinato l'arresto parla di un vero e proprio sistema criminale gestito dalla Tibullo, il cui principale core business è costituito dall'offrire ai detenuti, molti dei quali distrazione indranghetistica, benefici penitenziari non dovuti. Nelle intercettazioni tanti sono i contatti che la criminologa aveva con la penitenziaria, in particolare con due agenti in servizio al carcere romano di Re Bibbia, che l'aiutavano nella gestione dei rapporti con i detenuti. Angela Panzera per la Cineus24